D e D, designer dissidente, non farti dire dagli altri quello che devi pensare o come devi giocare o come devi stare al tavolo, ok? Pensaci tu, ragiona col tuo gruppo, create un ambiente amichevole, simpatico, familiare, coinvolgente, insieme. Scopriamo però se il regolamento del gioco di ruolo più importante del mondo ci aiuta a creare questo ambiente oppure no. Lo scopriamo leggendolo insieme. Io questo manuale non l'ho letto e lo leggo insieme a voi. Trovo infatti motivazione a leggerlo perché sono davanti a una telecamera, altrimenti non lo leggerei. Quindi io so, visto che ho tanti manuali di giochi da leggere, che vi ammorberò per degli anni perché non li leggerò mai fuori dal contesto della webcam o di una trasmissione. E quindi farò solo grandi, grandi letture. In alcuni casi saranno molto tecniche e riservate ai mecenati di Patreon. Vedete qua sotto l'indirizzo che passa. Una piattaforma nella quale tu dai un microfinanziamento. Io in cambio ti do dei servizi o dei vantaggi di qualche tipo, come ad esempio delle analisi per diventare un game designer. Così mi faccio un piccolo spot, tanto il mio video, quindi posso. Tutti i mecenati di Patreon, o almeno i miei mecenati di Patreon, sono autori, aspiranti autori, o persone che sono diventate autori di giochi dopo che mi hanno seguito per un po'. Quindi ne ho portato io stesso a pubblicazione. E questo per me è un grande motivo di vanto. Perché significa che sto creando una sorta, adesso non voglio dire una classe dirigente, però sicuramente un ambiente di persone consapevoli di quello che stanno facendo. Tu starai pensando, ma io voglio fare il Dungeon Master, cosa me ne frega a me? Io voglio fare le mie avventurine, le mie campagne epiche con D&D, perché mi dici sta roba? Sai perché te lo dico? Te lo dico perché tu nel momento in cui crei una campagna, crei delle regole, crei delle variazioni alle regole, crei delle home rules, crei dei personaggi non giocanti, crei degli archi narrativi e vuoi far interagire? Tu stai facendo del design. Quando tu vuoi far interagire appunto tutti questi personaggi, tutte le tue idee, tutti questi disegni, con i giocatori che hai al tavolo, tu stai realmente facendo del game design. Che tu te ne renda conto o no, tu stai facendo del design al tavolo. E quindi siamo tutti game designer quando giochiamo a certi giochi. Ci sono anche dei giochi di ruolo, devi sapere che invece ti danno tutti gli strumenti già di base, quindi non hai bisogno poi di creare tu delle cose, o di interpretarle, o di inventartele, o di farti dei quadernoni così, di regole fatte da te. Però, quando giochi a determinati giochi, come poi in parte Dungeons & Dragons, a meno che tu non compri le avventure e le leggi così, tipo ecco, allora adesso entrate nella stanza e trovate un D6. Allora, se sei Dungeon Master Robo va bene, allora spegni questa puntata, cioè non è per te sta roba. Se sei uno che invece piace scrivere, disegnare, inventare, fare foto ai luoghi medievali, di andare al museo medievale a vedere come erano fatte le armi, modificare le regole per fare dei tuoi punteggi per i danni. Ecco, questa robina qui, tutto questo qua, si chiama in parte game design, ok? Non è proprio la progettazione di un'esperienza di gioco, a partire da un tema, però è intervenire sulle regole. Eh, cazzo, allora ascoltami. Allora, creare una campagna. Siamo a pagina 25. Il mondo creato dal DM è il palcoscenico delle avventure a cui i personaggi prendono parte. Non è necessario dedicargli troppo spazio al di là di questa funzione. È possibile condurre avventure episodiche in cui i personaggi sono l'unico elemento comune, oppure inserire in quelle avventure dei temi ricorrenti che andranno a comporre una grande saga incentrata sui trionfi di quei personaggi nel mondo. Non ho capito niente. Pianificare un'intera campagna può sembrare un'impresa scoraggiante, ma non è necessario definire ogni singolo dettaglio sin dall'inizio. Esatto. È sufficiente partire dagli elementi base, condurre alcune avventure, e riflettere sulle trame principali che vale la pena di esplorare più a fondo man mano che la campagna si sviluppa. La quantità dei dettagli da aggiungere è a completa discrezione del DM. Hai visto che... Io non l'avevo ancora letta questa parte, però hai visto che alla fine è così, che devi fare il designer anche tu. L'inizio di una campagna è simile all'inizio di un'avventura. È consigliabile entrare presto in azione, presentare ai giocatori l'avventura che li attende e catturare la loro attenzione immediatamente, fornendo informazioni sufficienti, da spingerli a ripresentarsi la settimana successiva per scoprire come prosegue la storia. Spingerli a rappresentarsi la settimana successiva, cioè è un episodio a puntate, capito? Cioè siete proprio degli showman. Diventa che l'arte del dungeon mastering qui viene trattato come se fosse un'arte retorica. Cioè dovete convincere le persone che avete di fronte a voi a tornare a casa vostra. Non devo dirlo per l'ennesima volta che secondo me queste parole sono abominevoli, ma da lettore io vi dico se il regolamento dice questa cosa, la mia morale o i miei gusti non c'entrano niente. Io devo accettare che queste sono le regole. Se la dungeon master guide mi dice così, cioè che io devo applicare un'arte di convincimento degli altri a presentarsi a casa mia la settimana prossima per sentire la mia avventura, questo è il regolamento. Se non mi va bene, non gioco a questo gioco. Cioè dice di fare così, ha ragione Dungeons & Dragons, punto. Non tentate di cambiare a fare un'altra roba, cambiate gioco piuttosto, davvero, se non vi piace questa cosa. Ma credo che vi piaccia. Partire in piccolo. Nelle fasi iniziali di costruzione della campagna è bene partire in piccolo. Ai personaggi basterà sapere soltanto della città, del paese, del villaggio in cui il gioco ha inizio, e magari del dungeon che vi si trova nelle vicinanze. Se la baronia locale è in guerra con il ducato vicino, una foresta remota infestata dagli hettercat o dai ragni giganti, il DM può sottolineare questi aspetti. Ma all'inizio del gioco, l'area locale è più che sufficiente per avviare la campagna. Per creare l'area locale, basta svolgere i passi seguenti. Posso immaginare, posso supporre, che l'idea sia questa, è non andare sempre a definire tutto l'universo che poi hai troppo carico. Quindi parti in piccolo, poi questo mondo espandilo a seconda delle volontà che c'è di volerlo esplorare. Allora dice, creare un campo base, vedi la sezione insediamenti, già trattata, bravo. Poi, creare una regione locale, ah no, ti fa fare il geometra, il geobubuo, non lo so, niente. Tu devi creare una porzioncina di mondo, si, devi farla. Senti quanto scrocchia sto libro. preparare un'avventura di partenza adesso mi dice come devo fare Dungeon Master, dice per la maggior parte delle campagne un singolo dungeon è un'ottima avventura di partenza vedi capitolo 3 creare le avventure per ulteriori indicazioni allora dov'è il capitolo 3? aspettate lì capitolo 3, creare le avventure pagina 71, cioè abbiamo ancora 50 pagine prima di arrivare a pagina 71 vi rendete conto è questo qua quello con la stampa di galina, la babayaga che gira creare le avventure allora qua forse è solo un'anticipazione il campo base costituisce il punto di partenza comune dei personaggi potrebbe trattarsi del villaggio dove sono bla bla bla, per ognuno di questi passi vado avanti allora, preparare il palcoscenico qua parliamo proprio veramente di show a questo punto quando il Dungeon Master inizia a sviluppare la sua campagna la campagna deve comunicare ai giocatori alcune informazioni essenziali per facilitare le cose può riunire queste informazioni essenziali in una scheda riassuntiva della campagna una scheda di questo tipo solitamente include le informazioni seguenti due punti le eventuali restrizioni o nuove opzioni di creazione dei personaggi come le razze nuove o proibite avete sentito inizio puntata? siete voi che fate design siete voi che state progettando il mondo le eventuali informazioni sugli eventi passati della campagna che potrebbero essere note ai personaggi se diamo in mente un tema o una direzione in cui sviluppare la campagna queste informazioni possono includere degli indizi che alludano a quel tema vabbè le informazioni essenziali sull'area in cui i personaggi partiranno come il nome del paese i luoghi importanti nei suoi pressi i PNG principali che potrebbero conoscere e magari qualche diceria sui pericoli che minacciano la zona questa scheda deve essere breve ed essenziale una lunghezza massima ti dice anche quanto devi scrivere di due pagine è una misura ragionevole ma ha senso in realtà perché altrimenti molte persone si fanno prendere da questa idea da scrittore e comincia a scrivere dei romanzi poi lo metti nel cassetto e dici sì, un giorno pubblicherò il mio romanzo con la mia avventura ecco, qua invece ti dice segnati il soggetto perché poi è questo il concetto se vogliamo fare un parallelo un parallelismo col cinema infatti è un soggetto anche se il DM sentite qui in preda ha un impeto creativo eccezionale sceglie di produrre 20 pagine di straordinario materiale di background può tenerlo in serbo per ulteriori avventure lasciando che i giocatori scoprano i dettagli un po' alla volta nel corso del gioco ecco, lascialo nel cassettino dai poi, coinvolgere i personaggi una volta identificato il tema portante della campagna però non abbiamo esempi di temi portanti ma voglio sperare che sia in quel capitolo 3 questo discorso allora cosa succede? il DM dovrà consentire ai giocatori di contribuire a narrare la storia decidendo in che modo i loro personaggi restano coinvolti questa è la loro opportunità di collegare tra loro il background e le loro storie alla campagna è un'opportunità per il DM di scegliere vari elementi del background di ogni personaggio che si collegheranno alla storia della campagna per esempio quale segreto ha scoperto il personaggio dell'ermita in che condizioni versa la famiglia del personaggio nobile qual è il destino dell'eroe popolare alcuni giocatori potrebbero avere difficoltà a inventarsi qualcosa non tutti hanno lo stesso grado di creatività il DM può spronare la loro inventiva con alcune domande riguardanti i loro personaggi sei originario del posto sei nato cresciuto in quest'area se sì da chi è composta la tua famiglia qual è la tua occupazione attuale sei arrivato di recente da dove vieni perché sei venuto in quest'area sei collegato a qualche organizzazione o popolazione coinvolta negli eventi che danno via alla campagna sono amici o nemici io qua credo che sia necessario fare una una precisazione questa parte è un paragrafino guardate su questo wall of text è un paragrafino così insomma 5 righe 10 righe sono tre blocchettine di domande dovete sapere che questa roba qui non è colore ok cioè sì lo è in questo gioco è color ok è roba in più atticcata ci sono giochi che con queste domande creano l'intero personaggio e addirittura il resto del mondo come fai con una domanda sì questa roba che messa giù così sembra quasi veramente solo cosmesi no vabbè la roba così sei coinvolto di un po' anche la tua io vi assicuro provate anche e anche in questo gioco a dare peso a queste domande segnatevi pagina 26 pagina 26 se sei un dungeon master segnati queste domande fagliele davvero ok ma non che se le pensino loro le scrivono sulla scheda no questi giocatori poi ti raccontano la roba intanto non c'entrano mai una maffa con il background degli altri mai mai ok allora facciamo così fagliele davvero cioè rispondete seriamente arrivate a un livello di profondità nella risposta di questa domanda no e vedrete che avrete dei personaggi veramente spessi veramente importanti veramente coinvolgenti ma con poco ok senza scrivere un quadernino no con tutto quello che ha fatto gli intenti le intenzioni la roba il personaggio che questa roba non serve a nessuno ok rispondete a queste domande questo è un consiglio così è un consiglio non è una regola non è una regola di vita è un consiglio dice il DM dovrà ascoltare le idee dei giocatori a secondarle se possibile anche se preferisce che tutti i personaggi siano cresciuti nel paese di partenza può prendere in considerazione l'inclusione di un arrivo recente o di uno straniero se la storia del giocatore è convincente a sufficienza ecco convincente a sufficienza vuol dire che dovete convincere il master qua torniamo nell'old school no cioè convincimi che tu sai superare una prova allora te la lascio fare senza tirare il dado vabbè vabbè può suggerire delle alterazioni alla storia di un personaggio se si adatta meglio al mondo di sua creazione o intracciare i primi fili della campagna con quella storia eh sì io ve lo consiglio caldamente creare un background i background sono concepiti per ancorare i personaggi giocanti al mondo la creazione di nuovi background è un ottimo modo per presentare ai personaggi i tratti speciali del mondo di gioco bene vabbè adesso iniziamo a approfondire questa roba dopodiché si passa a eventi della campagna gli eventi più significativi della storia di un mondo fantasy tendono a provocare grandi sconvolgimenti guerra in cui le forze del bene e quelle del male si affrontano in un epico scontro disastri naturali che devastano l'intera civiltà invasione di vasti eserciti orde extraplanari omicidi di figure di comando sono questi eventi di portata mondiale a dare il titolo di vari capitoli della storia del mondo sei lì sei un guardiano di porci con tre punti ferita e ti trovi dentro ai 20 di portata mondiale vabbè questa parte mi sa che la approfondiremo nel prossimo video perché voglio proprio capirla bene nel frattempo io posso fare solo la solita cosa che faccio sempre cioè augurarvi buon gioco com a vabbè per l'indirio Grazie a tutti.